buongiorno ragazzi se anche voi volete rimanere sempre aggiornati sui video di bancomatti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video inoltre i bancomatti hanno aperto anche un canale telegram basterà scaricare la app e digitare bancomatti nel cerca troverete il nostro canale mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bombe di mercato amazon grazie e buona visione buongiorno a tutti ciao ragazzi video 86 di bancomatti allora quest'oggi i bancomatti tornano con un contest allora contest di febbraio ci saranno vediamo bene più il contest è sempre un concorso con delle dinamiche facilissime e gratuite con dei premi che vi verranno recapitati direttamente a casa allora spediti con posta tracciata esatto o se siete qua mettiamo anche a mano a posta così spariamo sulla posta allora mettiamo in palio dei rollins si allora per chi non sa cosa sono da battaglia quelli sedi quelli giusti ma finisca però aspetta dopo pensiamo un attimo a dove trovarli perché dobbiamo ragionarci un attimo comunque vediamo cosa sono questi rollins molti di loro già lo sapranno sono dei pupazzetti giuppini tipo quelli di ma no li ho portati giù no c'erano il giuppino va bene sono comunque dei pupazzetti piccolini arrivo subito e spiego io tu vai vai un paio dei pupazzetti piccolini da collezione giusto corregimi se sbaglio di star wars allora e ti dico guarda di qua quanti però allora questi li ho appena trovati eccoli qui sono tipo quelli che c'erano in palio di harry potter diciamo si 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 poi piccolini con una forma diversa però almeno sono ok e di star wars questa è già la seconda serie è la prima la seconda serie composta da 18 pezzi normali che finisce il 18 febbraio finisce il 18 febbraio quindi ci sono ancora un bel po di giorni allora 18 pezzi in più ce ne sono altri otto di cui sei che sono glow in the dark che si dominano di notte e poi ce ne sono due d'oro due d'oro che sono yoda e darbader l'unica cosa questi otto non so perché se lunga non gli ha fatto un astucino particolare ma sì cioè devi o ti prendi un'altra navicella li metti dentro però va beh o ti arrangi e ti crei qualcosa perfetto però più sono questi ottimo allora adesso dobbiamo vedere un attimo però perché allora sinceramente magari il nostro popolo non è attratto da quelli normali trovano tutti trovare qualcosa di di sé troverà anche per terra tu hai un metodo magari per riuscire a trovare dire al nostro guarda c'era fonzi che dato il pugno al ju box io schiocco le vita e faccio le magie si può provare allora sarà che vi metto anche un altro che ha periodo sono sbagliato facciamo così da non vuoi mai però una volta che viene di generale parte succede un casino e io mi fa che mi sono un po così per un riposo sei pronto non sei pronto tu un po lo che succede mi mette ora 1 2 3 Ho fatto uno schiocco di merda, fammelo rifarvi lo schiocco Ah, così fa Va bene, dai Uno, due, tre Oh, questo è uno schiocco serio Te lo stai sentito? Fischio, ma tutti e due diversi Andiamo a metti fino a stasera Andiamo a metti fino a stasera Per l'inconunità del mio posto magari no Perché se no Mi si spezza un po' Vi dico, io sarei andato avanti tantissimo E' lui che non l'ha voluto E' lui che non l'ha voluto Allora, vado ancora Mettiamo in palio questi due Rollins d'oro Sì, ve li facciamo comparire in grafica Appunto con una foto un po' più da vicino Per chi non li avessi ancora visti Allora, estendiamo il contest a tutti quanti In quanto questo contest, uno per i collezionisti Per chi lo fa, per chi è in qualsiasi punto d'Italia Che non è se l'unica vicino Ok, sono comunque due bei copazzetti particolari Perfetto Noi regaliamo al vincitore la coppia Di Rollins d'oro Quindi quelli d'oro te li fai tutti Ovvero, ovvero Yoda e Darth Vader Quindi, non so se porta chiavi, amico amica, ragazzo ragazza Se vuoi te lo puoi fare O se no tranquillamente te li metti in macchina In scrivania, da collezione Spieghiamo che Noi li regaliamo Questi due gioppini Appena uscita la collezione Viaggiavano a 30-40 euro l'uno su ebay Fischio Poi si sono iniziati a trovare Si sono diffusi E sono scesi un po' di prezzo Però indipendentemente dal prezzo Trovarli insieme Tutti e due E' veramente difficile Perché si parla di 20 No, 18 più 8 24 Cioè 2 su 24 Di cui questi li definiscono leggermente più rari Esatto In più a trovarli insieme E' davvero difficile Esatto Noi li regaliamo al vincitore del contest Esatto Ora vi spieghiamo il contest Esatto Allora, come avrete visto magari già dall'inizio Sì, sì No, basta sciccare Poi dopo magari ti si rompe il computer E mi faccia volutare i video Casino qua Spostalo almeno No, a parte gli scherzi Allora, come avrete già visto dalla grafica Probabilmente anche all'inizio video C'è questa foto Che abbiamo creato noi Che dovrete condividere Adesso Mickey vi spiega Tutta la meccanica della condivisione Per partecipare a questo contest E farvi assegnare un numero per l'estruzione Perfetto E vai Premessa Gratuito Esatto Non vincono a niente Non vi chiediamo niente I bancomatti si distinguono da qualsiasi altra cosa Perché Non chiedono mai niente Sì, sì Tutto quello che vincede da noi Ve lo spediamo noi Ottimo Davvero Sono comunque due gioppettini Collezioni bellissimi Ma ripeto Concorso gratuito Lo possono fare tutti quanti E i vostri dati Che non vi chiediamo Non verranno passate nessuna società Quindi nessun call center Vi romperà le palle Quindi non dateci colpa Mi chiedono la scenografia Mi chiedono la scenografia No Niente Ora vi spiego Come vi diceva Fuzger C'è questa foto Che abbiamo creato Che vi La trovate qui vicino Allora voi dovete Semplicemente E solo semplicemente Scrivere sotto il video In Youtube Non vale Facebook Ma sotto il video In Youtube Quindi aprire Il link Il link che vi lasciamo C'è La locandina grande Cliccare lì Vi si apre Youtube Esatto Andate sotto Dovete semplicemente Andare di fianco Da cellulare Da cellulare di fianco Sotto Dipende dai telefonini O con il computer sotto Nella striscia di commenti E scrivere Semplicemente Io partecipo Esatto Attaccato Staccato In cinese In francese Come volete Che capisci Basta che io Capisco che ci sia scritto Io partecipo O poi si danno una spolliciata Non è che fa schifo Beh Esatto Ci sta Poi La cosa importante è Prendere la foto Che vi abbiamo creato Che la trovate ovunque Nei link La metteremo anche Come copertina Del canale Capito Del gruppo Scusa Del gruppo O la pagina E sulla pagina Facebook Instagram Diciamo questa foto qua Del contest Magari anche in Telegram Già così Dove la volete Impossibile non trovarla Perché ormai la spariamo Perfetto Ok Dovete solo prenderla Condividerla su Facebook Esatto E taggare un amico Facilissimo Facile E proprio Riepiloghiamo Voglio partecipare Apro il video dei Bancomatti Prat E felici siamo Felici siamo Vado sotto Lascio una spolliciata Perché sono bravi Vado sotto Scrivo io partecipo Esatto E finisce qua Poi vado a prendere la foto Dei Bancomatti Perfetto La condivido su Facebook Sul mio profilo Esatto Sul profilo di chi volete Esatto Taggate un amico Giusto Così a caso Anche la mamma La suocera Una persona Cioè Quello che volete Quello che volete E basta E se Funziona semplicemente Esatto Noi poi Vedremo il tag Allora dicevamo Noi Controlleremo poi Il loro tag In modo da rendere Convalidare la vincita Così Esatto E poi daremo Una numerazione A tutti i loro commenti In ordine Crescente o decrescente Adesso vediamo Sì beh Tanto per meno Tanto poi per estrazione Esatto Un numero vale l'altro Poi dopodiché Andremo molto probabilmente In live A fare l'estrazione Ma faremo una bella diretta Poi pubblicheremo il giorno Magari anche la mattina stessa Così tanto È relativo Perché comunque poi La live rimane come Un episodio YouTube Bravo La cosa importante È che l'estrazione Viene fatta in diretta Registrata Esatto Voi vedrete precisamente Quello che vediamo noi Sul computer Perfetto Quindi non c'è modo Di tagliare E fare Tutto trafetto Magari facciamo Una tipo doppia estrazione Nel senso che da Se sono 50 Da questi 50 Ne stareiamo 10 Poi da questi 10 Ne stareiamo 5 E poi se arrivano A mano a mano A scremarli In modo che almeno Sia ancora più mischiata La cosa No Ah ok 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 Un'estrazione Tirata Ho capito Piuttosto che fare Una botta Se è fortunato 5 volte Quindi vuol dire Che proprio Se l'inverita Ho capito Il giochino Ho capito Praticamente sì Verrà fatta Ok In modo che uno Non c'è una botta Di culo Mi piace Mi piace Per dare più probabilità Alle persone Faremo questo modo Esempio Commentano 30 persone Perfetto Da questi 30 Verrà fatta La prima estrazione Da 10 Esatto E con i 10 Nominativi Noi ci avevamo Tutte le tabelle segnate Poi Da questi 10 Ne verranno estratti 3 4 Perfetto Ok Da questi 4 Ne verranno estratti 2 E dopo ancora Verrà estratto Il vincitore Perfetto In modo che C'è un po' di suspense E c'è un po' di gioco Se no Ok Abbiamo una lista Quattro persone Io schiaccio il tasto E basta Invece così Ne ha un bel testa testa E potete anche commentare Esatto Nella diretta dell'estrazione C'è il pannello giallo E non le parolacce però No No Siamo femmini Però ci fanno Un pariolo così Niente È una cosa bellissima Davvero Mi piace Ma Deve un'altra bella idea Sto con l'esitato No Basta Mi piace tanto Mi piace tanto A questo punto Miki Io direi O che speriamo A tutti i soliti Ciao ragazzi Continuate a commentare Spolliciare Come state facendo Mi raccomando Vi ricordo Che qua sotto La descrizione È fondamentale Se avete bisogno Di un link Instagram O Twitter Basta che ce lo chiedete Qualsiasi cosa Se avete bisogno Chiedete 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 Iscrivetevi Ai nostri canali Sia Telegram Che YouTube Se non vi siete ancora iscritti Anche alla nostra pagina Facebook Mi raccomando Fatela Perché ci sono un sacco di news Seguiteci anche su Twitter E Instagram E a questo punto Un abbraccio dai Bancomati Ciao 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 Ciao